Io mi chiamo Miriam Catalano e faccio parte del CIF che è il Comitato Imprenditoria Femminile per conto di Usarci che è il sindacato degli agenti di commercio di Torino. Tutte noi del gruppo daremo per quello che ci è possibile un piccolo contributo. Il mio riguarda l'importanza della creatività nel mondo dell'imprenditoria. Allora io sono un agente di commercio ma lavoro nel settore della cantieristica dove è molto importante, dove ci sono regole molto precise ed è un settore molto rigido. Ma credo comunque che la creatività sia molto importante in generale perché è quel qui di in più che permette di affrontare i cambiamenti inevitabili e improvvisi che spesso si presentano nella vita lavorativa di tutte noi. Le donne per indole sono comunque creature che si adattano più facilmente ai cambiamenti e sono multitasking, quindi sono proprio per indole educazione e formazione abituate ad affrontare più cose contemporaneamente. La creatività subentra quando si presentano degli imprevisti e quindi c'è necessità di escogitare sempre nuove strategie per poterli affrontare nella maniera più opportuna. Come comitato di imprenditoria femminile noi cerchiamo di promuovere corsi di formazione e diciamo supporti che possano aiutare le donne ad affrontare i vari aspetti del fare impresa e a quindi migliorare, facilitare l'ingresso delle donne nel mondo dell'impresa.